la prima volta mi vede oh ma sei una fina fluorescente il cuore è un tempo io ti ho citato una foto una mascherina senza mascherina senza mascherina generalmente li abbiamo mascherati ti hai messo in arena ti hai messo in arena le sono messe a bella del genere io recensì un tuo romanzo tantissimi anni fa mi ricordo come si chiama? Stati di famiglia Stati di famiglia Stati di famiglia ma a foglio si deve togliere la mascherina no, l'ho tolta lo posso fare anch'io perfetto in realtà la fila dovrebbe stare certo far venire bene non è facile beh vedi tu fai come puoi con photoshop ritocca pure se no c'è l'animale e io l'ho tolto poi riporto come diceva però lei si tiene quello che è venuto Fulvio Fulvio cosa stai facendo? stai scrivendo? sto scrivendo con molta calma con molta calma perché ho scritto un bellissimo romanzo che nessuno si è filato la peste nuova che è uscito a luglio l'avete mai visto? no ed è un romanzo sull'inadeguatezza con la nave di Teseo ah con la... Elisabetta con il rito e... niente grazie 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 grazie